Verrà inaugurata domani alle 18 nel Salone Civico del Torchio in Piazza Castello a Carimate la mostra Cesare Monti, l'immagine della musica. Cesare Monti è stato un innovativo art director, fotografo e regista tra gli anni 70 e 80. Grazie a lui l'immagine dei dischi in vinile, dei videoclip e della fotografia nel panorama musicale è cambiata completamente. È stato il primo art director italiano a impreziosire il disco. Il suo lavoro è stato associato a nomi come quello di Fabrizio De Andrè, Angelo Branduardi e Lucio Battisti di cui curava in esclusiva l'immagine e quella delle sue copertine. Nella sua lunga carriera ha ideato e prodotto più di 250 copertine di album, diratto videoclip, documentari, film d'arte e spot pubblicitari. Al Salone Civico del Torchio in Piazza Castello a Carimate è in programma dal 23 giugno al 5 agosto una esposizione in sua memoria con decine di fotografie e copertine, oltre ad alcune gigantografie 3x2 con scatti inediti a Lucio Battisti. Gli orari martedì e venerdì dalle 17 alle 21, sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 11 alle 18.